arriva in legge a questa partita che sono le raccomandazioni quelle principali che ha fatto ai suoi ragazzi e con la seconda domanda le caratteristiche principali di questo avversario ma arriva dopo un risultato positivo che sicuramente ci deve portare entusiasmo ma non in presunzione andiamo a affrontare una squadra forte dove in fase difensiva è una squadra che ti viene a lavorare molto uomo su uomo quindi ti viene forte addosso e invece quando hanno la palla è una squadra molto tecnica che sa giocare con dei meccanismi oliati da diverso tempo quindi una squadra ben allenata e con dei giocatori importanti sicuramente affronteremo la Fiorentina che si è vista a Genova contro il Genova e non quella che si è vista in settimana in Europa. È chiaro che non è semplice quando si cambia la metodologia del lavoro e quando si cambia modo di vivere mi preferisco a Cava differentemente Rama perché quando è arrivato sembrava che stesse con noi già da tanto tempo dall'inizio del ritiro perché conosce anche la lingua quindi è un ingresso un po' più veloce più rapido comunque Momo devo dire che contro la Lazio è subentrato benissimo e in questa settimana si sta adeguando ai nostri allenamenti e alla nostra metodologia quindi è chiaro che gli altri sono più avvantaggiati ma si parla sempre comunque di giocatori di spessore che bene o male a prescindere dal fatto del capire o no la lingua conoscono la cosa più importante che è quella di saper giocare a calcio